E bella a tutti ragazzi, eccoci qua in questo nuovo video su GTA V Online Regà, prima di iniziare il video vi ricordo il mio profilo Instagram Romanaccio-Kille Andatemi a seguire tutti, mi raccomando Instagram Romanaccio-Kille Regà, oggi siamo nuova gara Lipao 10 milioni Ho creato questa gara per il mitico Lipao Per i 10 milioni di iscritti, belli miei 10 milioni, tanta roba, regà, tanta roba Veramente tanti Comunque, siamo qua, gara in BMX E' la mia seconda o terza gara che creo in BMX Non ne ho create tante perché ve l'ho detto Non è che sono proprio una potenza con le BMX Però ci sta, dai Ogni tanto una gara in BMX Let's go, iniziamo belli miei Iniziamo Allora, qua ora bisogna iniziare a saltare Saltando, impennando Teniamo No, 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 no Spostati Parfavorite, ho lasciato le collisioni Perché Vi piacciono, vi piacciono Una deluzione si trolla Regà, speriamo che non arriva nessuno Qua dobbiamo avere la via libera Guardate la scritta Vabbè, l'avete già vista Della miniatura Vai Oh, no, no, no Rekt Dovevo impennare prima Ma c'era qualcuno E sta facendo retromarcia In bici, quindi Vai così Prima Vai No, 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 no Cadi bene Ok Impegniamo anche adesso Oh Ci siamo Ora qua Ah, bisogna saltare Ho fatto il medio per sbagliare Sorry Sorry Bisogna saltare Guarda, attenzione E anche bene Così Subito scendi Frena, frena, frena Ok, sono due parti così Quindi concentrazione massima Frena qua Gira Ok Ora Vai così Vola Ok Ce l'abbiamo fatta subito Attenzione qua Che la bici trolla In questi In questi Punti Che bisogna girare Perfetto Saltando Uno Saltando Due E saltando tre E qua Guardate che roba Guardate la scritta là Di Pau Dieci migliori Mamma mia E qua direte Che cosa devi fare qua Adesso vi faccio vedere Se bisogna fare Se bisogna aggrapparsi Di Complicata Forse facciamo prima Respawnare Ma proviamo Tanto così Non ce la faremo Attenzione Ah È morto Peccato Vai Rifacciamo Eh non è facile Attaccarsi Subito Ok Guardate che spettacolo Mazzuna Ragazzi Cosa vi porta Lo zione Guardate le gare Che vi porta Lo zione Che crea Con le sue Soffici mani Nei commenti Mi ha scritto Liadamo Ma che crema Usi Per avere Le mani Così soffici Numero uno Non mi ricordo Non mi ricordo La crema Ma È tutta Abilità di mano Regà E qua ovviamente La bicicletta Non salta Perché salta Solo quando vuole Lei Ogni tanto Regà Non salta Oh Ora sì Pum Pua bisogna fare Un salto Da una parte All'altra Salta Purtroppo A volte Regà La bicicletta Ha questo problema Che non salta Si capisce perché Salta Eh Non mi Failare ora Pum Maglia Ok Check preso Qua abbiamo One ride E devo buttarmi Di là in strada Allora Impegniamo un po' Vai One ride Alla Level Asian Un po' di level Asian Con la bici Facciamolo Che Non lo facciamo mai Vai Check preso Gli altri sono ancora Via all'inizio Eh Non è facile Se uno è un abituato A usare la BMX È un casino Allora Qua non mi ricordo Che toccava fare Toccava impennare Però ce l'abbiamo fatta Lo stesso Vai così Regà Fatevi sapere Se vi piace Questa Gara e link All'attività L'ho trovata Nel gruppo Telegram Quindi entrate Nel gruppo Telegram Attenzione Qua è fino Qua è fino Ho fatto anche I colori La bandiera Dell'Italia Vedete Bianco Rosso Bianco Verde Vai Velocita qua Ok One ride E il check Bisogna buttarsi Ah Ok A pelo Regà A pelo E ora qua Loop Attenzione Che in bicicletta Il loop È veramente Difficile Impegniamo Tienilo Ok Si è atterrati bene C'era un altro Ovviamente ho messo Un check in mezzo Perché Se no è un casino Regà Farlo tutto di Tutto di prima Non è facile Allora Impegniamo Vai così Vai così BMI E vedete Succede Che la BMX Si sgancia E meno male Che ho messo Sto check Se no Dovano rifarci Anche l'altro loop L'ho messo Per facilitare Un po' le cose È già Complicato Dai Non sganciarti Non sganciarti Non sganciarti Ok Ora non si è sganciato Frena Parerfavar Perfetto Parkour Level Asian Adesso abbiamo da fare Di warride Attenzione Qua è complicato Vediamo se riusciamo A farlo subito Allora Abbiamo poca velocità A fine gara Il dito Lo perdiamo A forza di schiacciare X Vedi che va giù Va giù Va giù All'improvviso Ma una ragazzi La BMX Odiosa Va giù da sola Raga Andiamo a cercare Di prenderlo Un po' più Un po' più veloce Vai Vediamo ora Se ci fa il numero No 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 Cerchiamo di tenerlo così Così ci siamo No 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 Andare giù Allè Perfetto Check preso Hai raga Is complicated Qua impegniamo Is complicated Mettete bene Rict Rifacciavanti Abbiamo preso il check Allora Impennata Mettiamoci bene Guardate la chiazza di sangue Della spappolata di prima Spappolati Allora qua Impenniamo un po' Dobbiamo arrivare qua Dove c'è il turbo Pum Ah un po' di glide Bisogna fare Vero L'ho creata tempo fa E non l'ho mai registrata Quindi Dovevo registrarla Ma adesso Vatti a te a ricordare Cosa avevo messo Allora vai così Velocità Impenna un po' Così fa il glide Oh la peppa pig Ok abbiamo preso il check Ha preso un volo assurdo Pazzesco Ora Già non me lo sento più il dito Ve lo dico Raga Impegniamo Mai Non si vede niente Ok Terra bene qua Glide Glide Stiamo perdendo Stiamo perdendo Vai 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 Perfetto Ora Un altro check preso Andiamo avanti Gara Carina eh Ah Vediamo se ce la faccio No 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 Un po' più veloce Raga Dovevo impennare Questa parte È una delle più facili E ci stiamo trollando Vai Oh Ora dovrebbe averlo Agganciato Però dobbiamo andare in su Raga eh Che verso la fine Ci dobbiamo buttare Ok Così Perfetto Check preso Questa è finita la gara Alcuno sta facendo il glide Non oso immaginare Non voglio neanche vedere Chi è Vai Prendiamo sti turbo Pum Pum E atterriamo Sulla piattaforma Non fare il glide Sennò superiamo tutto Bene Check preso Ora qua c'è un altro glide Da fare Speriamo di farlo Subito Che il glide con la bici È diversa Del glide Con la moto Raga Allora innanzitutto Cerchiamo di localizzare Il checkpoint Dove è là Dobbiamo girarci Un po' Verso in qua Vedete Nel palazzo Quello là in fondo Ok Basta girarsi Non perdiamo il glide Però eh Allora Abbassiamoci un po' Che dite Abbassiamo un pelo Se Se non superiamo tutto Raga Abbassiamo 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 tutto Ok Check preso Respawniamo Non è difficile Glide con la moto È più difficile Perché comunque Devi fare Delle manovre Comunque Quando sei in aria Invece con la bici Devi stare fermo E va lei Il difficile Attaccare il glide Però Comunque Attenzione qua Qua dobbiamo passare In mezzo Impennando Sempre Vai Senza beccare I spuntoni Di ferro Allora Vai Impennatina Siamo un po' Storti Ora ci siamo Vai Glide Leggero Per prendere il check Perfetto Ora c'è un wallride Poi c'è una parte Sotto sopra Ho fatto E quella Vai così Qua l'ho fatta Brasiliana Colore della bandiera Brasiliana Per il mitico Lipao Grandissimo E ho messo un check Perché altrimenti Qua bisogna andare dritti Attenzione Bisogna cercare Se non siete dritti La bici tenderà A andare storta Questa è la parte Sotto sopra Guardate che roba Siamo storti Però Qua non possiamo Neanche sistemare Perché appena ci muoviamo Cadi Attenzione Andiamo qua Guardate sotto sopra Stiamo sempre impennando Guardate che roba Mazzuna Ragazzi Vai così Turbo Prendiamo il check Ferma Ferma Bene Ora dobbiamo salire Qua sopra In tranquillità proprio Anche un po' No Ho provato a impennare Per andare più veloce Se ne accorta la rampa Non si Oh Regà E muori che non muori mai Brutto signore Vai veloce Meglio non impennare Regà che dite Meglio di no Andiamo avanti così Regà vi dico che Ho il dito Che non lo sento più Belli miei Sono 14 minuti Che sto premendo X Con la BMX Tra l'altro Ecco BX con la BMX 14 minuti Anche per questo Non faccio mai gare Con la BMX Però dai Sono carino Ogni tanto Da Da cambiare Ecco Da non fare sempre Le stesse gare Parkour Queste sono un po' Gare particolari Poi ovviamente Voi fatemi sapere Nei commenti Se Mi è piaciuta Questa gare Perché ormai È finita Bisogna scendere questi Containere C'è il traguardo Regà gli altri Non so dove sono Rama il 16 Hanno quittato tutti Ma non è così difficile A mio avviso Beh un po' Bisogna Saper usare la BMX Ovviamente Se non sai usare la BMX È ovvio che abbandoni Perché Non è facile da usare La BMX Su GTA ragazzi Serve veramente Molto allenamento E qua andiamo a 2000 E andiamo a concludere La gara Regà Spero che questa gara Vi sia piaciuta Fatemi sapere nei commenti Se vi è piaciuta Spero di sì Se ne volete altre Ditemelo Vedo Di creare altre gare Andando a Dux Parcheggiato Ho preso il posto Di Cinghialotto All'inizio Grande Dux Regà Spero che il video Vi sia piaciuto Lasciate un bel like Lasciate un bel commento E noi come sempre Ci becchiamo al prossimo video Bella Ciao a tutti Ciao a tutti